Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione. Oggi vedremo come fare una crostata moderna con i nuovi stampi a disposizione per la pasticceria. Quindi andiamo prima sui bordi, così. Questa è proprio la parte più bella. Cioè dovete togliere proprio l'eccesso che si forma, vedete? Così, pasta frolla con un po' di mandorle e un po' di baking, il nostro prangipane al pistacchio, le amarene, la bavarese al cioccolato, la glassa lucida al cacao, un po' di lamponi da decorazione che ci stanno molto bene. Col pistacchio ci stanno molto bene i lamponi, anche col cioccolato. La lezione è terminata e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!